Irendi hembole Allora, buonasera a tutti. Ecco, benvenuti a questa seconda sessione del nostro convegno su, non so cosa dire, Isimbolo, Metafora, Analogia? Però mi capisco, no? Prima di tutto vorrei anche giustificare la mia presenza qui perché purtroppo la professoressa Bruna Costa Curta, che era quella che doveva moderare questa sessione, il cui nome è stato indicato nel Depliant, per questioni di salute non ha potuto essere qui come lei avrebbe voluto. Quindi mi hanno chiesto se poteva fare questo servizio e ho accettato volentieri. Allora incominciamo questa nostra seduta qui con la presenza di Monsignor Renzo Bonetti, che è stato per tanti anni responsabile della famiglia nella CEI e dopo questo servizio è diventato presidente della fondazione Famiglia Dono Grande. E siamo lieti di averla qui perché diciamo che è stata la sua iniziativa, il suo interesse che questo congresso, questo convegno andasse avanti e anche ha sponsorizzato tutto l'evento. E quindi noi adesso le diamo la parola e lui ci spiegherà un po' tutte queste vicende. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 evangelizzazione cattolica promossi da Alfa, attività spirituali e formative come seminari, scuole di evangelizzazione, corsi per sposi e fidanzati, corsi sulla genitorialità. Troverete maggiori dettagli delle varie attività nel Debian che vi è stato consegnato, oltre che sul sito www.misterogrande.org e nella colana di testi Famiglia Dono Grande, cinque volumi editi da Cantagalli e i successivi da Porzioncola. Qui mi preme sottolineare alcuni passaggi che sperano posso essere di aiuto, di guida per voi. Il primo, la grazia del sacramento del matrimonio. In un momento storico in cui la società occidentale non solo è sempre più indifferente o addirittura ostile nei confronti della rivelazione cristiana, la profezia di San Giovanni Paolo II risuona quanto mai attuale. Chiesa santa di Dio, tu non puoi fare la tua missione se non puoi compiere la tua missione nel mondo se non attraverso la famiglia e la sua missione. L'Omelia del 30 dicembre dell'88. Oggi più che mai gli sposi e la famiglia possono essere un tabernacolo di Chiesa, un luogo di relazioni umane e cristiane in cui custodire e da cui offrire al mondo la fede nella presenza del risorto. Una testimonianza nella e con la semplicità della propria vita, dell'amore unitivo, fedele e fecondo di Dio, resi capaci per grazia di costruire comunione e comunità ecclesiale e sociale. Non intendo spiegarvi tutto cosa è e cosa fa il progetto Mistero Grande, ma spero che in ciascuno di voi si accenda la passione e lo stupore nel contemplare la bellezza del sacramento del matrimonio, nello scoprire le potenzialità di evangelizzazione. E quando dico queste cose non le dico così soltanto perché fan parte di principi. Posso dirvi che dico cose sperimentate. Ho visto famiglie risorgere e correre nella loro vita di coppia e di famiglia dopo aver scoperto la grazia del sacramento delle nozze, dopo aver imparato a contemplare il dono. Per secoli noi abbiamo insegnato ai futuri sacerdoti a contemplare il dono del sacerdozio che avrebbero ricevuto, perché nello stupore di un dono grande avrebbero saputo anche vivere un ministero in modo degno. È tempo di insegnare agli sposi a stupirsi del dono che hanno ricevuto, perché nello stupore della grazia si accorgeranno come non è solo grazia che salva, ma è grazia salvante. E i parroci e i preti scopriranno quale dono prezioso è il matrimonio per il futuro della pastorale. Io l'ho sperimentato per dieci anni in una parrocchia numerosa e devo dirvi che funziona. Il sacramento del matrimonio non è stato fatto per creare problemi al clero e alle chiese. Il sacramento del matrimonio è stato fatto per essere risorsa che Dio ha dato alla sua chiesa. Soltanto che per ora le infinite enunciazioni che troviamo nei documenti, bellissime e straordinarie, non hanno mai fatto il passo decisivo all'interno della pastorale. Sono rimaste parole vuote. Ecco perché bisogna ritrovare il fondamento, quel fondamento che vogliamo parta proprio dalla parola, come questo incontro e altri che potremmo farne perché a partire dalla parola, dalla scoperta della nuzialità che si potrà camminare in questa direzione. E gli sposi troveranno nutrimento per un entusiasmo di percorso di coppia non inferiore all'entusiasmo dei giovani sacerdoti o dei giovani consacrati. Sta a noi saperlo comunicare. Potreste chiedermi allora che cosa c'entra la scrittura con tutto questo, ve l'ho già detto in poche parole, perché il progetto Mistero Grande si è coinvolto in questo convegno. Che relazione c'è tra la parola e la famiglia? Provo a riassumere questa relazione con tre dimensioni collegate a quello che Papa Benedetto XVI ha chiamato il grande mistero nuziale. Parto da una citazione del Verbo Indomini al numero 22, il mistero dell'Alleanza esprime questa relazione tra Dio che chiama con la sua parola e l'uomo che risponde nella chiara consapevolezza che non si tratta di un incontro fra due contraenti alla pari, ma è un atto di intesa tra due parti uguali, ma puro dono di Dio. Mediante questo dono del suo amore, Egli, superando ogni distanza, ci rende veramente suoi partner, così da realizzare il mistero nuziale dell'amore tra Cristo e la Chiesa. Potrei proseguire con altre citazioni di Amoris Laetitia. C'è una dimensione poi del dialogo e della testimonianza che gli esposi a contatto con la parola possono manifestare. Se la dimensione nuziale può essere come in filigrana nascosta in tutta la storia della salvezza, quanto e come può essere quella stessa filigrana dentro la quale si manifesta la nuova, la continuità di questa storia della salvezza. Si Dio ha costruito una storia di salvezza con le famiglie, perché le famiglie non possono essere la continuazione di questa storia della salvezza. Ma noi dobbiamo individuare come e perché possono essere questa continuazione. E poi c'è una dimensione pastorale di evangelizzazione fortissima. Un'evangelizzazione di dimensione della pastorale perché è piccola Chiesa. Ai relatori di questo convegno ci siamo permessi di regalare un testo di riflessione biblico-teologico sulla Chiesa domestica. Perché effettivamente questo concetto tanto antico quanto nuovo, ripreso dal Vaticano II e poi citato in tutti i vari documenti, effettivamente se messo in atto nella pastorale diventa una potenza di Dio. Lo dico con una battuta da parroco più che da studioso. Io da parroco sapevo come servirmi dei capitelli che c'erano nella mia parrocchia, ma non sapevo come utilizzare le Chiese domestiche che sono sacramenti della presenza di Cristo. E questo la dice lunga sulla retratezza della nostra pastorale nei confronti di una teologia che ha camminato, di una riflessione biblica-teologica che ha camminato sulla Chiesa domestica, ma che non ha mai oltrepassato il confine della riflessione teologica. Non è mai entrato nel campo della pastorale. Per non parlare poi dell'evangelizzazione. Un'evangelizzazione che non può partire, non può non partire da quella modalità di annuncio che Dio ha scelto. Dio ha scelto di manifestarsi attraverso l'immagine e somiglianza. È la prima visibilità di Dio che lui ha scelto. E penso che noi non dovremmo scegliere un'altra diversa pensando di saperne di più. Probabilmente anche oggi l'immagine e somiglianza solo va studiata che qualità di immagine e somiglianza può passare oggi per essere evangelizzazione, per creare perlomeno dei punti interrogativi a quelli che pongono modalità di coppia, modalità di famiglie fatte in modo diverso. Come può essere? E qui si intravedono quanto e come noi dovremmo inventare dei cammini spirituali che sappiano dire la bellezza del maschile e femminile dell'uomo e della donna. Allora comprenderemo poi che anche essere Cristo Chiesa ci dà l'idea, di che cos'è la Chiesa, che stiamo ovviamente perdendo. Credo che non serva molto per capire quanto stiamo perdendo l'idea di Chiesa. Basta una messa domenicale in qualche Chiesa d'Italia, anche in qualche cattedrale, e contare le persone e come partecipano. Quale distanza passa da una persona all'altra che è presente in quella cattedrale? Due metri, tre metri? Poi qualche volta ci si allunga con la mano per dire il segno di pace, ma manca. Quando invece sappiamo chi è che dà la forma. Chi è che dà forma? La famiglia forma della Chiesa. Concilio ecumenico Vaticano II, Gaudium Spes 48. La famiglia cristiana rivela l'intima natura della Chiesa, ripresa da Papa Francesco. Ecco perché vale la pena spendersi su quella radice che stiamo affrontando qui, questa radice biblica, che fruttifica ovviamente non solo nella dimensione del sacramento del matrimonio, ma anche nella dimensione della vita consacrata. Grazie.